È vero che abbiamo visto un Inter che lo ha fatto bene, io penso che si può migliorare, sempre pensare così, ma è chiaro che siamo in una buona posizione, la squadra lo ha fatto bene, abbiamo mostrato che tutto è sistemato e tutto va bene. Non è una buona notizia quando due giocatori devono lasciare il campo così, ma sembra che Lucio non sia tanto serio come all'inizio sembrava. Julio Cesar era precauzione, non sappiamo oggi, Samuel oggi ha lavorato con il fisioterapista, dobbiamo aspettare domani, vedere tutti e due e dopo come vanno durante questi due o tre giorni. L'anno scorso Samuel penso che ha giocato come punta qualche volta o alla destra, la differenza quest'anno abbiamo deciso che lui poteva iniziare alla sinistra, più vicino alla porta, ha fatto gol così in questa posizione, lo ha fatto lo stesso come centro avanti, lui quando è vicino alla porta è sempre pericoloso. Per me il modulo non sarà la differenza, se abbiamo giocatori di qualità avanti sempre sarà più facile per lui e per gli altri fare gol, non è un problema. Coutinho è chiaro che lui ha qualità, lui ha un talento e tutti stanno aspettando che ogni palla deve essere una palla particolare e speciale, ma lui ha bisogno di tempo. E' un giocatore di 18 anni, ma è un giocatore che arriva da un altro paese che sempre il calcio è diverso. E' chiaro che quando una squadra lo fa bene normalmente è un errore dell'altra squadra, noi lo abbiamo fatto molto bene, era più difficile per loro. Dopo il secondo gol loro dovevano rischiare un po' di più e noi abbiamo più vantaggio. Sempre può essere così, non è facile fare gol se l'altra squadra non fa errori. Il clima è molto positivo perché oggi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo fatto quattro gol, è la Champions League, siamo tutti contenti di aver visto questa partita e adesso lavoriamo in campo per preparare la prossima. No, noi siamo professionisti e sono sicuro che i giocatori saranno concentrati nella partita.